Arte per te arriva in tv e ha bisogno di voi! Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te Questa è Arte per te Arte per te Ciao a tutti e benvenuti da ombretta su Arte per te E si ragazzi, Arte per te arriva in tv Alcuni dei tutorial di Arte per te andranno in onda sulla trasmissione Tutorial appunto Che è una trasmissione mandata dalla 3 ogni giorno, da lunedì al venerdì alle 17.40 Arte per te concorrerà nella categoria Hobby Senior E cercheremo di vincere, vero ragazzi? Sì, sì, perché questa è una trasmissione che mette in palio uno speciale dedicato al canale vincitore Cioè, se dovessimo vincere, Arte per te andrebbe in tv con uno speciale di due puntate Dedicato interamente alla nostra arte, a quello che ci piace fare Io vi ringrazio tutti perché ieri ho messo la notizia su Facebook E avete commentato e partecipato tutti quanti alla mia gioia Vi ringrazio e vi ringrazio soprattutto perché io so che tutto questo è merito vostro Grazie alle vostre segnalazioni, grazie al vostro affetto Grazie alla vostra presenza, grazie alle vostre opere d'arte Che postate continuamente anche sulla pagina Facebook Sicuramente Arte per te è saltata all'occhio E quindi, non per merito solo mio, ma anche per merito vostro Abbiamo raggiunto questo traguardo Adesso però mi serve il vostro aiuto perché dovete aiutarmi ad andare avanti in questo gioco Allora, come si fa? Ancora non è molto chiaro perché non mi è arrivata ancora nessuna comunicazione ufficiale Però in linea di massima si fa così Verrà aperta una pagina Facebook da parte di Tutorial Dove ci saranno le icone riferite ai vari canali YouTube Voi cercate quella di Arte per te e cliccate il vostro like, il vostro mi piace sotto Arte per te Basta, solamente questo Credo che dobbiate iscrivervi alla loro pagina Facebook e cliccare il like sotto i miei video Tutto qua e avrete aiutato Ombretta e Arte per te Spero veramente di non deludervi, allora vi do le indicazioni su dove vedere Tutorial Verrà mandato, quindi vi dicevo, o tutti i giorni, da lunedì al venerdì alle 17.40 Su La3 Che potete vedere sul canale 134 del Digitale Terrestre Quindi la televisione normale O sul 143 di Scari Ma non vi preoccupate perché se siete al lavoro e avete quei 5 minuti liberi da poter dedicare ad Arte per te Potrete vederlo anche in streaming E vi metto qua sotto il link per accedere direttamente alla pagina, al sito web di La3 Dove manderanno in streaming le puntate Allora, per votare naturalmente vi metto qua sotto nel box informazione il link di accesso diretto alla pagina in cui si vota Dov'è il box informazioni? Molti mi chiedono Allora, guardate sotto il video, ci sarà una scrittina con scritto mostr'altro Cliccate là sopra e vi si aprirà proprio una cartellina dove ci sono tutte le informazioni aggiuntive Io qui sotto metterò quindi il link di accesso alle votazioni in primis Il link in cui guardare in streaming la puntata se non potete accedere tramite tv E metterò anche il link della mia pagina Facebook dove vi invito tutti Allora, venite numerosi anche sulla pagina Facebook perché da lì vi terrò aggiornati sull'allendamento delle votazioni Io credo che queste votazioni andranno avanti per un po' perché la trasmissione è lunga Durerà fino a febbraio, marzo, non so ancora quanto E ci saranno credo anche delle eliminatorie Quindi vi chiamerò più volte al voto E spero di avervi accanto a me Io vi ringrazio tutti per l'affetto che mi avete dimostrato Vi ringrazio tutti perché siete diventati tantissimi Ma adesso questi tanti devono far sentire il loro peso, la loro voce Aiutate l'arte a vincere Perché sarebbe bello se vincesse proprio una tematica arte Un canale che abbia dei contenuti colti Un canale che abbia dei contenuti artistici Un canale che abbia dei contenuti di creatività e di libertà dell'espressione Quindi ragazzi, io tifo per noi E ci vediamo tutti sulla 3 Su tutorial Oggi alle 17.40 Il primo video di Arte per Te verrà trasmesso proprio martedì 17 alle 17.40 Quindi cominciamo subito alla grande Votate, votate, votate E grazie, grazie, grazie Vi voglio bene Ciao, alla prossima Questa è Arte per Te Arte per Te